La provincia ha fatto legittimamente un bando per chiedere anche proposte alternative rispetto a quelle di La Terza e poi ha preso una decisione che è stata quella di privilegiare il progetto del Sole 24 Ore. Io non conosco il progetto del Sole 24 Ore e quindi non mi posso esprimere, so soltanto che noi non siamo partner e non siamo partecipi mentre eravamo partner e partecipi del progetto presentato dalla Terza che ha dato grande successo al festival in questi 15 anni. Cambiare si può però chiaramente comporta anche dei rischi. Per quel che riguarda noi come università la grande differenza è che di un progetto eravamo partner, nell'altro non siamo coinvolti. Almeno fino ad oggi vedremo se ci coinvolgeranno.